Ok? Sì, via! Vado! Buongiorno! Buongiorno! Ma dove andiamo? Dove andiamo oggi? In montagna! Yeah! Ani, ciao, cucciola! Ci dobbiamo preparare che tra un po' arriva Papi e andiamo! Sei contenta? L'amore mio! Perché mio papà è andato a prendermi la tuta perché quando ero piccolina avevamo preso delle tute che erano per me. Adesso che sono cresciuta non siamo più andati in montagna quindi vanno bene ad Anastasia. Esatto! E per me non ce n'è neanche una, mi mancano i guanti, la tuta e le scarpe. Eh già, è proprio vero! Invece per Ani c'è tutto, vero amore? Sì, sono le guante! Papà è andato a prenderti anche a te i guanti, d'accordo? Sì! Ci svegliamo? Allora ci vediamo dopo quando saliamo in macchina! Ciao! Ciao ragazzi! Adesso stiamo preparando la valigia! Guardate, queste sono le... Qui abbiamo le cagnotiere e i pigiami, invece qui i miei vestiti. E di Anastasia! E il vostro cambio! Dai, su! Veloci! Che dobbiamo partire! Negli angoli, negli angoli! Dai Ani! Dai, dai, su! Che per mezza giornata di vacanza dobbiamo fare la valigia! Adesso bisogna mettere le cose per la neve! I vestiti per la neve, dai! Ani, però va piegato, eh! Non si può mettere così, bisogna piegarlo! Questo di chi è? Così! Viva! Allora, questo è il mio giubbotto per andare sulla neve e gli aggiorno i pantaloni. Ok! Piegamo il giubbotto. Allora, sei già stanca? Sì! Non hai ancora fatto niente? Non mi piace! Che brava Anastasia! Abbiamo messo anche i miei pantaloni. Adesso io vorrei prendere i guardi! Dai! Prendi qualche... Sì, io ho preso i capellini, guardate che belli! Questo è il capellino di Anastasia! Benissimo! Benissimo! E qua abbiamo il mio! Quando mio papà è andato al polo nord, me l'ha preso e... Me l'ha portato, sì! Guarda, qui ci mettiamo i guanti! Va bene! Allora, adesso metto le mie cosine e quelle del papà, ok? Ok! E ci vediamo dopo in macchina, va bene? Sì! Va bene! A dopo! Ciao, ciao! Eccaci in macchina, bimbe! Ma guardate un po' che panorama! Scherzo, siamo appena partiti! Siete contenti che tra poco siamo in montagna? Sì! Eh? Io ho visto una montagna! Eh, però quella è ancora molto lontana, Anastasia! Siamo appena partite! Secondo me nevica, perché lì in fondo ho visto una montagna con un casa bianca sopra, quindi c'era me neve e neve! Sulla vetta della montagna la neve c'è, ma quando non vai ad altitudini troppo alte potresti non trovarla! Poi l'altro giorno ci andiamo nell'alta vacanza, possiamo rifare i video in macchina e nella nave quando andiamo nell'alta vacanza! Ecco, io vorrei tanto andare in Sardegna, se convinciamo il papà a portarci in Sardegna, eh? Andremo sulla nave! Sì! Io farei molto volentieri un dieci giorni in Sardegna, non so, magari uno ha dato in Sardegna, perché no? Guardate, io dormo sopra i cuscini, anch'io! Ok, ci si vede dopo? Quello è il mio cuscino, tutti noi! Quello è il mio, eh, col cuore! Era nella mia borsa nuova, che era il regalo di papà a Natale, e non l'avevo ancora usata, perché dopo Natale non siamo più usciti di casa! Va bene, bimbe, ci si vede tra poco, eh? Dopo il riposino vi chiamo, va bene? Ciao! Fai la brava, Anastasia, non cominciare a fare la disfettosa! Siamo arrivati, amore? Eh? Siamo arrivati, finalmente! Adesso io e Vanessa ci stiamo facendo quattro piani a piedi, perché non avevamo voglia di prendere l'ascensore, vero? Sì, questo è il tassoliano, non bellissimo! Guarda, mamma, quando vogliamo possiamo andare lì giù a giocare, vero? È un po' di neve! Domani troveremo il fan park, eh, Vane? Sì! Di Dolon! Andiamo su da papà? Sì! Eccoci dentro, la nostra stanzetta! Per il posto sopra! Wow! Ah, ma c'è la camera su? Sì! Che bello! No, ma io direi di guardare subito la visuale, guardate che camera, accendiamo la luce! Guarda cosa ho trovato! Ho trovato questi! Eh, ma perché qua, vedi? Mamma! Il caffè puoi fare il tè! Sì, è il bollitore per poter fare, se vuoi, un tè caldo la sera, e queste sono le bustine per il tè! Stasera ci facciamo un bel tè caldo prima di andare a dormire! E penso che siamo quattro, vanno bene! Eh certo! Chi è che accende la luce? Io? Dov'è? Non lo so! Dov'è? È la luce del bagno! Volevo la luce! Niente! Che meraviglia! Non c'è luce? Sì, con la carta! Sì, con la carta! Guardate che bella stanzetta! Di sopra ci sono dei lettini! Adesso Vanessa vai su? Sì! E ti affacci dalla finestra? Sì! Anzi, dal balcone? Sali Ani! Piano piano, eh Ani! Atenta, eh! Paura! No, non avere paura, dai! Hai le mani! No amore, hai le manine! Puoi usare le manine per salire se non vuoi salire! È bello! È bello? Sì! Ah! E allora vengo anch'io, dai! Oddio, paura! Sono curiosa! Oh! C'è il tastone di Vanessa! Che bello! Oh! Ha detto non cadere giù da lì, eh Ani! Da lì, eh! Wow! Ok! Che bello! Che bello! Che bello! Il muro! Il muro! Yeah! Poi possiamo giocare a nascondino! Sì, sì! Vestiti! Eh già! Possiamo mettere i vestiti! Sono felici insieme! Mi piace? Quando Ani, quando ci svegliamo noi, possiamo fare lo scherzo da qui, a mamma e papà ti facciamo bu! Ci ha lanciato l'acqua in faccia! Va bene, dai! Spogliamoci! Anzi, voi vi siete già spogliate che alle cinque e mezza andiamo a bere l'aperitivo! Sì! Di benvenuto! Poi andiamo al ristorante a mangiare! Ah, sicuro! A mangiare! E come! Ciao! Ciao, bimbe! Un po' di neve! Non a me! Non a me! Papà, è stato lui a lanciartela, non io! No, no! Amma mia! Che mira che hai! Cuzzola! Cuzzola! Attenta! Cosa vuoi da me? Io non ho messo i guanti! Neanche papà, poverino! Si sta congelando le mani! Dai che andiamo a vedere se troviamo un ristorante! Sì, no, poi andiamo! Riveniamo qui! Ah, gli Ani, pal, si sta congelando le mani! Dai! Ani, hai guanti! Perché non li hai messi? Non si è dimenticata! Andiamo, cucciola! Giochiamo dopo, dai! Cuzzola! Mi si stanno congelando gli occhi! Eh, qui l'arietta è bella fresca, eh! Anche a casa nostra, ma qua diciamo che è un pochino di più! Sto facendo un aperitivo e poi dopo andiamo a cenare! E invece tu, mamma, cosa stai mangiando? Insalata, crostini e cipolle! Buono, Ani! E tu, Ani? Patatine e un crostino! Mmm, buono! Buona mamma, voglio un piatto così! Ti piace? È una pasta tipica valdostana, con la panna e il prosciutto! Ti piace? Io non te l'ho mai fatta! Vuoi che te la faccio quando torniamo a casa? Io ti sento! E adesso arriva da bere, amore, hai ragione! E vede il predo! Patatine! Con tutto quello che c'è di buono! Buone le patatine in Valdosta, sono più buone, vero? Eh, immaginavo! Per amore, grazie! Prego! Quanto ci chiedi per la bimba? No! Avete un goccino di vino che vi scaldate un po'? Buono questa, eh? Eh sì, grazie mille! Prego! Ancora, amore, allora hai deciso di... Ti piace così tanto? Ad un po' non c'è di più, però! Grazie! Vediamo, amore, cosa? Wow, è arrivato il bere! Finalmente! E' stata te? E' stata te? Sì! Guardate! Ok! E per me è il Papi, un Brunello di Montalcino del 2014! Veramente? Certo! Assolutamente sì! Certo! Eh, Papi! Salute, amore! Sì, mi amore! Domani mattina andiamo a giocare con la Merri! Domani mattina andiamo a Dolona al fan park, ok? Vuole che è buono! Vediamo! Un certo! Avevi tanta fame, Vanessina, mi amore! Oh, oddio! Anche tu? No, oddio! Papi ti rifocilla! Abbiamo finito l'aperitivo e adesso siamo alla ricerca di un ristorante! E' buono! Papi si mangia dentro o si mangia fuori? Eh, non lo so! Verifichiamo! Verifichiamo! C'è il menù! C'è il menù! C'è il menù! C'è il menù! Allora, adesso il nostro papà sta vendendo i biscotti perché dopo, quando andiamo in camera, beviamo il tè caldo e i biscotti! Ma siamo proprio dei golosoni! Sì, e poi lo scoprirete cosa faremo! Eh, già! Anche io voglio i baci di mamma! I baci di mamma! Di dama, amore! Di mamma! Sì, ma anche la mamma ti dà i baci, eh! Non ti preoccupare! Ne vuoi uno adesso? No! No! E' il papi che acquista! Non lo vuole Anastasia? Bocaccina? Eh? Bocaccina? Sì! E noi? Antipasto valdostano! C'è qualcuno che ho già finito! E poi chi sarà mai? Vane, non mangi! Perché, amore? Guarda che bello! Che buono! Sì, ma non mi piace il ragù bianco! Non ti piace il ragù bianco? Però guarda che è molto buono! Dove è Anastasia? Non c'è più! Andiamo tutti a giocare sulla neve senza Anastasia! Sì! Cos'è questo fastidio che ho sulle gambe? Ok! Ancora! Ancora! Ah, l'hai trovato? Sì! Bene, molto bene! Dai che beviamo il caffè io e papi e poi andiamo in stanza a mangiare i dolcetti! Dai, papi non vedo! Dai, non vai! La bontana è la città tua tua! Se vi dici la cabellina dell'otto, tutta giusta? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 84, 72 e 80. Brava, amore! Grande! Ogni promesso è un debito! Questa di chi è? Cos'è? Da voi? Cos'è? Da voi no! Ma caramellina, papà! Da voi no! Cos'è ne sai? Io so giusto! Ne sai? Non hai saputo resistere! Chi te le date? Cos'è la? Dalla signora? Forse sono dure? No, secondo me sono quelle di zucchero che si sciolgono in bocca! Lo so, controlla! Amor, sicchini! Io le conosco bene le caramelle! Sono durissime! Buone? No, le voglio più! Io cosa c'è la scada? Alla camomilla! Alla camomilla! La chiamo a camilla! Assaggio! No, io! Assaggio! Assaggio! Com'è? Alla camilla! Alla camilla, camilla! Questa potrebbe! Potrei addormentarmi! Assaggi io! No, io assaggio io quello lì! Prima io, per te! Come sta a far pagare l'acqua? Si torna a casa! E ci preferiamo per una super nottata merendosa piena di dolcini! Eh? Sì! Andiamo? Andiamo? Guarda Vane! Guarda che albero di Natale! Dove sei? Amore! Che bello! Ma qui ancora è Natale! Ecco, mi sto camminando qua sopra le rassi! Adesso cosa faccio? Salto da lì? Eh? No! Non farti bene? Che saltone! Oh, lei! Dai! Vado eh! Quindi non hai piedi congelati! Eh! Brava! Adesso dobbiamo andare da papà a vedere! Dove papà? Come sono lontani! Vediamo! Oh Dio mio! Vado lì eh! E io? E sta lì! Ok, Vane! Dopo cena altri quattro piani di scale! Ok! Allora, ragazzi! Dopo vi sveglio cosa facciamo! Usciamo nell'hotel piano piano! Perché secondo me è questo qui mi senti no! Vabbè! Siamo piano piano! E vediamo se c'è qualcuno! E spiacciamo fuori da tutta il barco qui! Sì, va bene, sì! Vai sì! Sì, vai sì! Sì! Vai! Sali perché adesso arriva il papà e Anastasia non hanno le due chiavi per entrare! Non ci sono! Ma non ci sono! Stiamo cadendo! Credo che ci sono! Credo che ci sono i pericari! Ah va! No! Poi va bene, non è che... Amore, sai, sai! Ci sono solo il dicloro! Siamo solo al secondo piano! Poco, vai, vai, vai! Come è successo? Niente, si è spenta la luce! Che paura! Che c'è già! Andiamo! Come sei? Che bello montaggio! Dov'anni andiamo a giocare con la nonna! E poi andiamo al parco Jobs! Sì! Ancheci! 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 Dai, su, vale! Fagli vedere chi sei, amore! Lotto! Sì, ma andiamo a fare un viaggio in persona! Ah, ma adesso... Eh no, eh! Così mi deludi! Dove sei tu? Stai cercando il pigiama? Sì! Adesso ci la faccia. Vediamo, aspetta! Puoi vedere? Con papà! Adesso arrivo a Anastasia un attimo! Voglio vedere a Vanessa quanta resistenza! Cosa c'è? Vieni! Dove? Per cercare il pigiama! Sì! Arrivo! Oh! Vai! 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 Ma la Lucia? È buona? Dai, andate a mettere il pigiamino che dopo vi vengo a dare la buona notte! Anche il te! Anche il te hai ragione, ne ho dimenticata! Adesso schiattiamo! Io mi metto! Io! Ci vediamo dopo! Vieni, ti chiusi e... Ma che bello! Ma questo è il bagno del nostro hotel, eh? Sì! Dalla nostra stanza! Mi fate vedere un po' quello che c'è perché io ancora... Allora, qui c'è la doccia! Qui! Abbiamo un gabinetto! La doccia! Abbiamo un gabinetto! Abbiamo un gabinetto, grazie a Dio! Un pon! Un pon! Ma come si chiama? Bidevane! Un labanino! Sì! Ti senti a caricare il posto centrale! Wow! Tu hai un'idea! Cioè, tu mi diamano questa, tu questo è! Ti esce il doccia o schiuma, sì! Poi abbiamo un sacco di gadget, vero, Vane? Che cosa stai mangiando, innanzitutto? I biscotti di Valdostar! Papà! Papà, è andato a aprire dell'acqua per fare... Per bere! Per bere! Dopodimattina! Dopodimattina! Andiamo a giocare! Sì! Intanto, dopo quando papà dormire, facciamo un'occhiazza! Lo vinciamo dalle cale o da su, nel letto! E vediamo cosa fa mentre noi facciamo finta di dormire, ok? Sì! Ok! Abbiamo un bottone, no? Beh, abbiamo... Me lo fai vedere cosa c'è dentro, Vane! Eh, lo so! Abbiamo un bottone che è fatto presente, che bello! Vediamo! Ah, wow! C'è dentro uno spazzolino e un mini dentifricio bellissimo! Da viaggio! Ma le abbiamo? Questa scatola è anche da qui dentro! Basta leggere! Ah, va bene! Abbiamo! Cos'è? Non c'è niente! Cos'è? Cos'è? Ah, una cuffia doccia! Eh, una cuffietta per fare la doccia! Fantastica! E basta! Poi credo che ci sia qualcosa altro, no? Sì! Una crema per il corpo! Abbiamo una lametta! Ecco, questa serve per fare la barba! Ah, la fiuma! Insieme alla lametta! Fantastico! Cosa c'è? Guardate, qui è la nostra merenda per l'uomo in mattina! Ah, mizzeca! Abbiamo pure la colazione! La prese papà! Questa è la merenda per stanotte, Anastasia! Ah! Ma anche la colazione! Ma certo! Bimbe, buonanotte! Ci vediamo domani mattina! Mi raccomando, appena vi svegli! Esatto! Appena vi svegli, alzatevi che andiamo giù a fare colazione e poi andiamo al parco giochi, ok? Sì! Dormite bene! Ciao, muori! Ciao! Ciao! Ciao, notte! Ciao, ciao, ciao! Ciao, 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 ciao! A domani, portate! Ciao! Io non voglio! Io non voglio, perché lì c'è una lucina! Va bene! Dove, di là, Ani? Qua! Ma no, dormi di là dove c'è il muro, Ani! Sì! Dai, fai dormire qua! Notte! Ciao, buonanotte! Ma mamma, mi raccomando, vanno in macchina, quando ti svegli subito, svegliami a me, ok? Certo! Perché sono felicesima, così mi veste, ok? Ok! Mi vedo anch'io, cari! Ciao, buonanotte! Ciao! Ciao, ciao! Io, così, oggi quando mi dè, io vengo più a vedere se ci sei, poi vado a vivere male, e vengo giù con me! Ci sarò sicuramente! Ciao, cucciole! Mi raccomando, domani mattina, appena vi sveglio, alzatevi! Ok! Ciao! Ciao, ciao! Notte! Buonanotte! Notte! Ciao, ciao! Ciao, amore! Che ben sveglia! Andiamo a dare un attimo una visuale dalla finestra! Ok! Guardate, che meraviglia! Wow! Adesso noi dove andiamo? Adesso andiamo giù a fare colazione, ci saranno secondo me tante cose, e poi andiamo al parchetto a giocare! Va bene, al parco divertimenti! Andiamo! Ci vediamo alla colazione! Poi! Papà e Anni sono già arrivati! Sono coperta abbastanza, ho freddo! Sì, è freddo! Il latte, il cappuccino e delle due nantelline! Buon appetito allora! Grazie! Anche io il cappuccino! Il latte bianco! Sì! E poi? Nutella! Sì, dopo ci vediamo a giocare ai packet e con l'acqua! Ciao! Fine! Siete pronte per il fan park? Sì, guardate! Ah, ti sei portata dietro la dentiera? Sì, siamo rivendicati! Di portata la barra! No, non ti sei dimenticato! È lì! Quella che ti ha lasciato la dentista Vanessa! Allora abbiamo portata i... Ah, in camera! Ma li hai lavati i dentini? Sì! Tra pochi minuti saremo al parco divertimenti! Va bene, ci vediamo tra pochissimissimo! Al parco divertimenti! La 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 la! Sì! 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 Ehi là! Ma siamo arrivati? Eh? Wow! La Nastasia è già lì con Papi! Dove andiamo? Dove andiamo? Eh? Dove andiamo? Sul trampolino! Il trampolino sulla neve! Yes! Anni, a tenta e non mi sentai! Te l'ho anche detto! Sì! Mmm... Mmm... Divertente! Sì! Duba, duba, duba! Duba, duba, duba! Duba, duba, duba! Vai! Anni, guarda cosa ho trovato! Anni, cos'è? Guarda qua. Ah, bello. Vai Anni, ti devi sedere lì. Non farla volare. Ok, paura. dove siete non vi vedo vai giambella dai lanciati se no non la becchi più lanciati vai dai vava oddio ti ho detto di stare attenta relax quasi quasi mi ci fico anch'io in ciambella stop Vanessa non riesce più o ce l'ha fatta a saltare fuori dalla ciambella ma adesso si prende una bastonata in testa con le mani con le mani che c'è Ani? del brucomela no io non ci vado eh beh direi è per piccini Ani andiamo a far questo vieni Vanessa mamma mia è cortissimo non riesce a salire ci sono giochi per bimbi piccoli si fa caldo posso farlo? la sciarpa no la giacca no dove vado? sul bob per poi scendere con il bob e col papà e dopo tocca a te sei contenta? dai continuata secondo me adesso scendono Ani perché non li vedo non sono ancora scesi stanno arrivando secondo me stanno scendendo adesso sono quelli là in fondo eh? eccoli eccoli stanno arrivando eccoli le vedi? sono questi qua che stanno arrivando di fronte a noi eccoli 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 va bene arrivati com'è andata? sei divertita? ma cosa voglio fare? perché? no dai Ani perché no? posso rifare certo ti è piaciuto? no ti è piaciuto bene? sì dai Ani fallo perché? certo vai vai amore uno alza le mani e così anche questo è pericoloso aspetta il bimbo spostati vieni 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 arriva 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 Anastasia amici prima esperienza sul bob di Anastasia questo bimbo continua a cadere speriamo che papà non lo c'entra spostati bimbo brava Ani amore bravissima ti sei divertita? sì è stato bello è vero abbiamo fatto tre tre eh sì siete arrivati in alto alto certo aspetta ti accompagno così ti do la spinta ok? ecco adesso scendete da sole con la ciambella ok? sì stiamo siete pronti? hai visto? cosa è successo? perché è caduta? può stare in ciambella non c'è più dai mettiamo la ciambella non so quante volte siamo già saliti saliti vai Ani vai mamma non devi andare da sola non va tranquilla se non la spingo io non scenderete mai ci siete? guardi c'è le cambiani ci siete? sì sì tienila forte Vane ok? vado ok ce l'hanno fatta senza pranzo mentre noi spettiamo i nostri panini la signorina mangia l'oletto kinder ma ce la fai? con l'estatia ma ce la fai? adesso arriva il tosto e mangi hai capito? mamma ma che ore sono? dopo ci vediamo a casa dopo ci vediamo a casa? tra un po' dormiamo la nostra giornata l'abbiamo fatta giusto? è arrivato la cena di pranzo Vane? mister? la buona tirolese? no e tu? mangi mister di tossoretta o non mangi il toast? no eh signorina? io voglio dimoccare è buono un po' sì non capisco se è molto croccante o molto vecchiotto buon appetito e si ritorna a casa Anastasia è crollata e anche Dane tra poco dai che tra poco siamo a casa siamo appena tornati a casa dalla nostra mini vacanza e stai già facendo i compiti sì eh sì perché è rimasto un po' indietro brava tesoro allora senti il video finisce qui? il nostro vlog in montagna è finito quindi ragazzi se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao